Buongiorno, 13 giugno 2024. La lettura di oggi è un approfondimento di carattere tecnico che penso possa interessare soltanto a chi è veramente appassionato di economia. In questa serie intitolata Rinascita, di cui quello di oggi è il sesto appuntamento, cerco di chiarire quali sono stati i danni che la moneta unica, l'euro e prima dell'euro l'eq, i danni che la moneta unica ha procurato all'Italia, all'economia italiana. Quindi cominciamo la lettura di questa sesta puntata in cui io rimetto in ordine un pochino tutto ciò che ho capito dalle mie letture e dalle mie analisi. Il divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro del 1981 fu un passo fondamentale verso la moneta unica, cioè verso la perdita della sovranità monetaria. Con il Trattato di Maastricht del 1992 iniziò anche la limitazione della sovranità fiscale, poi perfezionata con il Trattato di Stabilità e Crescita del 1997. Seguì ancora l'adozione dell'euro nel 1999, quella che io chiamo la finta moneta unica con cui fu definitivamente sigillata la cessione di sovranità monetaria da parte dell'Italia alla zona euro, alla UEM. Stessa moneta in pratica all'interno della zona euro, ma diversissimi tassi di interesse applicati ai debiti pubblici dei paesi della zona euro e alle loro economie. È difficile farsi concorrenza con chi ha, sia sul debito pubblico che sul debito privato, dei tassi di interesse molto inferiori. La svolta nel valore del tasso di interesse reale, cioè nel suo aumento, fu causata proprio dall'indipendenza formale della Banca d'Italia dal governo. Sancita nel 1981 tra Beniamino Andreatta, ministro del Tesoro e il governatore della Banca d'Italia Carlo Azzelio Ciampi. Si stabilì che l'istituto di emissione non era più tenuto ad acquistare i titoli di Stato rimasti venduti sul mercato primario privato. Quegli acquisti, quando la Banca d'Italia li poteva fare, determinavano la monetizzazione del debito pubblico, cioè l'emissione di moneta non a debito. La Banca d'Italia allora, con quel provvedimento del 1981, cessava di fungere da prestatore di ultima istanza. In pratica non poteva più finanziare la spesa pubblica del governo a tassi opportuni con la stampa oculata di moneta. I tassi di interesse in quel momento storico, pensate, proprio in quel momento storico i tassi di interesse del mondo occidentale raggiunsero i massimi del secolo. Così, purtroppo, i tassi di interesse reale aumentarono tra il 1980 e il 1982, in due o tre anni, di 10,2 punti. Una cosa enorme per i tassi di interesse reali, che sono la differenza fra il tasso nominale e il tasso di inflazione. Anche il signoraggio monetario della Banca d'Italia cominciò gradualmente a diminuire a favore del signoraggio dei mercati, che cominciò ad aumentare progressivamente. Il signoraggio è il reddito derivante dall'emissione di moneta. Per le banche centrali il reddito da signoraggio è il flusso di interessi generato dalle attività detenute in contropartita delle banconote in circolazione o più generalmente della base monetaria. Il divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro serviva ovviamente a tenere l'Italia dentro la gabbia dello SME, così come l'austerità serve oggi a tenerla, in questi ultimi anni intendo, a tenerla dentro la gabbia dell'euro, ostacolando la creazione di base monetaria a basso costo e quindi diminuendo il rischio di pressione sui prezzi, sul debito pubblico e sul debito estero. Così non c'è rischio che rompiamo l'unità dell'euro. Dopo il divorzio, mancando il sostegno al debito pubblico della Banca d'Italia, il Paese era costretto a risparmiare oppure possiamo dire a sparambiare, per capire meglio, e così permetteva al cambio l'ira EECU di resistere contro la speculazione, di resistere al cambio all'interno della banda di oscillazione dello SME, che prima era una banda larga del 6%, poi in seguito diventò una banda stretta del 2,5%. L'aumento abnorme del tasso di interesse reale causò la crescita rapida del debito accumulato. Il primo forte incremento avvenne infatti tra il 1981, eravamo al 57%, e il 1994, arrivamo al 121%. In pratica il raddoppio del debito pubblico in poco più di una decina d'anni fu dovuto essenzialmente alla spesa per interessi senza che l'Italia si potesse difendere perché non aveva più una banca centrale che poteva operare come prestatore di ultima istanza, sostenendo il tasso di interesse fissato sui titoli emessi dal tesoro, sui titoli del debito emessi dal tesoro. Il debito allora si appesantì nonostante una progressiva riduzione del benessere sociale, cioè delle protezioni sociali, e non il contrario come si vuole far credere perché fa comodo dire che fu il governo che dilapidava i soldi degli italiani. Infatti il disavanzo primario, cioè la differenza tra le entrate e le spese, quando si usa il termine disavanzo significa che le spese sono maggiori delle entrate, il disavanzo primario andò progressivamente diminuendo in quegli anni 80, cioè cominciamo a risparmiare. Iniziarono anche una serie di distorsioni, conseguenza della rapida crescita del debito pubblico da una parte e dei tassi di interesse reali dall'altra, cioè si cominciò in Italia ad apprezzare la rendita finanziaria, visto che i tassi di interesse reali erano così alti, che si portò via evidentemente una parte degli investimenti privati. Era l'epoca dei bot people. Inoltre l'impossibilità di svalutare, quando necessario, all'interno dello SME, soprattutto nei confronti della Germania, tenne artificiosamente a freno le nostre esportazioni. Così eravamo costretti a spendere le nostre riserve, quando ce n'era bisogno, per stare all'interno della banda di oscillazione, cioè per stare all'interno della gabbia. Nei primi anni 90 l'Italia, che ricordiamolo sempre, non poteva svalutare liberamente perché era all'interno dello SME registrò saldi commerciali in deficit, cioè importava più di quanto esportava. E qui ci fermiamo per continuare la prossima volta. Grazie.